Quindi noi vedremo 60.000 persone andare in giro con il saio, con sopra scritto pentiti, è colpa tua, nei vicoli, nei mercati, tra gli stand dei ventitori, diciamo, di frutta. Abbiamo anche domandato, ma saranno persone con una qualche specializzazione per fare la moral swation? Swation? Saranno sociologi, psicologi, educatori? No. Hanno fatto una formazione professionale? No. Si sono formati alla scuola del niente e saranno chiamati a fare il nulla. Bene, possiamo consolarci. Il governo ha deciso di ridare vita, come è evidente, dopo otto secoli. al movimento degli spirituali, a quegli allievi di Ubertino da Casale e Jacopone da Todi, che andranno in giro per i nostri centri storici a portare la buona novella, a fare moral swation. Mi auguro soltanto che non vengano, alla fine, a bussare alle nostre porte di casa alle tre di pomeriggio, quando qualcuno di noi si sarà appena assopito per farsi mezz'ora di pennichella, al ristoro delle tante tensioni che ci vengono da Roma. Grazie a tutti.